Ciao a tutti, allora molti di voi si sono lamentati perché non hanno capito, alcuni anche molto duramente, perché non hanno capito come upgradarsi alla nuova versione, nello specifico sto intendendo alla versione beta 9 di FNR, quella stessa che vi siete invitati, se avete Android 10 o superiore, che siete invitati a upgradarvi, come vi dice qua in alto, versione software può riproduzione eccetera eccetera, un aggiornamento più nuovo e performante per la prima quest'area. Premiamo l'area e attenzione, volevo evidenziarvi, non è una grade normale che basta andare nello store e lo trovate, come viene detto e spiegato qua chiaramente, si tratta di unirvi al programma beta, ok? Programma beta, andiamo a vedere cosa vuol dire. Perché ho fatto questo? Ho fatto questo perché chi è che non gli piacesse la nuova versione può comunque tornare indietro alla versione 8, se fossi passato direttamente alla versione 9, vi trovate la versione 9 e non potevate più tornare indietro alla precedente, quindi è stata una buona azione, non una cattiva azione per, diciamo, mettervi in difficoltà. Allora, ecco, vedete qua la pagina del nostro lettore notifiche, andate un po' sotto e troverete partecipa al programma beta, partecipiamo al programma beta, eccetera, legherà e così via, ed ecco qua, aggiunto il programma beta in corso, l'operazione potrebbe richiedere qualche minuto, noi adesso la velocizzeremo, come viene praticamente suggerito, si può andare, bisogna andare al Play Store, se no lui si tiene a mente, diciamo, l'attuale impostazione, quindi così velocizziamo sicuramente, andiamo a cercare nelle app il Play Store, eccolo qua, andiamo nella sua modalità avanzata, andiamo a spazio di archiviazione di cache e svuotiamogli la cache, a questo punto, se andiamo direttamente nel Play Store, andiamo di nuovo a cercare il nostro lettore notifiche e ci entriamo, ecco qua, che magicamente adesso stiamo puntando, vedete, alla versione 90026, in questo caso è raccomparso il tasto aggiorno, semplicissimo.